Le anticipazioni del segreto ci rivelano interessanti novità su una protagonista molto amata della soap, parliamo di Beatrice Dos Casas, che nel corso delle prossime puntate vedremo coinvolta in un incidente, per fortuna poco grave ma che la vedrà incastrata per alcune ore in una trappola per animali nel bosco. La figlia di Ernando infatti, su richiesta del padre, andrà a consegnare dei documenti al proprietario di una fabbrica, durante il viaggio però, sentendo un gatto miagolare deciderà di avventurarsi nel bosco, e proprio mentre cercherà di avvicinarlo si troverà a passare sopra ad una trappola per lupi, facendola così scattare. A liberare la giovane Dos Casas dalla morsa dopo molte ore di sofferenza, ci penserà un ragazzo di passaggio, che si presenterà a Beatrice come Ismael Berrientos. Quest'ultimo poi le rivelerà di essere un distributore di prodotti cosmetici, e che stava andando proprio da suo padre Ernando a Los Manantiales, per concludere un affare molto importante. Il ragazzo in realtà altro non è che il primo figlio di Ernando, Damian Dos Casas, creduto da tutti morto in modo tragico. Il Dos Casas ovviamente non lo riconoscerà e si dimostrerà molto grato nei confronti di Ismael per aver tratto in salvo sua figlia, ma non tutti vedranno il ragazzo di buon occhio, a sospettare di lui saranno Roelia e Mattias. Nonostante la diffidenza dei due però, Beatrice inizierà da subito ad instaurare un rapporto molto complice con il nuovo arrivato. La situazione, però, prenderà una piega molto complicata quando Ernando deciderà di proporre al giovane di trasferirsi a Los Manantiales, in modo da gestire gli affari nel miglior modo possibile. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!